Arianna Censi, questa mattina il vicepresidente del Consiglio della Regione Lombardia, Sara Palmaggi, ci ha fornito due dati. Il primo è che le donne hanno potuto diventare prefetto solo dopo l'intervento della Corte Costituzionale, non grazie alla legge, e poi ha spiegato che noi siamo il 68esimo paese e su 68 hanno mai avuto una donna Presidente del Consiglio. È così, è vero, è una riflessione giusta e interessante. Io penso che sia venuto il tempo, anche perché le donne sono in grado di riconnettere i bisogni, le esigenze, le risposte alle domande di tutte le persone, uomini e donne, allora forse questo potrebbe anche riconnettere la politica alle istituzioni. Possiamo dire di conseguenza che il fatto che ci sia il Centro Studi Grandi Emiliano, la dottoressa Maierini che lo gestisce, cioè il fatto che ci siano le donne che oggi fanno cultura, vuol dire finalmente creare un volano per portare le donne a esercitare un ruolo che disperita. Assolutamente sì, poi se sono donne intelligenti, caparbi e competenti ancora di più.